ben ritrovati a in 300 secondi capire e conoscere ibma italia questa volta in compagnia di alessandra bini a capo del team legal di ibma italia e anche ambassador della leadership al femminile grazie per essere qui con noi grazie maurizio grazie mille e grazie per avermi presentato non solo come capo della direzione legale ibm italia ma come ambassador del programma women at ibm di cui io sono molto ruolo di cui io sono molto molto orgogliosa e che mi riempie di gioia di attenzione soprattutto in questo periodo devo dire che anche per me è un tema che mi appassiona tantissimo e che ovviamente è un tema che appassiona tutta l'ibm ecco viviamo un momento particolare dal punto di vista storico la pandemia ha avuto tanti effetti la crisi occupazionale ha avuto un riverbero pesante soprattutto sulla compagine femminile e abbiamo un gender gap decisamente su cui possiamo fare diciamo meglio ecco com'è la situazione esattamente maurizio il gender gap lì è un problema si dice che ci vorrebbero 137 anni per riallinearsi secondo i dati del world economic forum l'ibm ha iniziato da tanto tempo è dagli anni 30 che ibm promuove il talento femminile lo promuove nelle posizioni nelle professioni scientifiche lo promuove in termini di salary e compensation equality lì lo promuove in termini di ruoli apicali e di leadership al femminile l'ibm italia è parte di questa di questa partita con tantissime iniziative alcune delle quali in alcune delle quali ho il piacere di partecipare quelle che mi stanno più a cuore sono le iniziative sulla formazione perché è da lì che parte tutto nella linea una in particolare sì direi che quella che più mi diverte e che credo sia molto importante è quella volta alla all'avvicinamento delle delle ragazze delle giovani ragazze alle professioni e alle materie STEM progetto nerd esattamente nerd sta per non è roba per donne e lo sta proprio a significare che è esattamente roba per donne noi andiamo nelle scuole superiori in tantissime città italiane a promuovere l'avvicinamento delle ragazze a queste materie facendoli conoscere tantissime professionalità non solo nella parte tecnologica e scientifica ma tante volte anche parlando di come essere un legal in un'azienda tecnologica può rappresentare una sfida certo che se ci metti diciamo in quei contesti la stessa passione che ci stai mettendo adesso a raccontarci questa cosa mi sa che invece che le materie STEM le avvicini alle materie legal a volte a volte è successo che qualche domanda e qualche ragazza si sia interessata anche a una professione come quella del giurista che ci può riservare qualche sorpresa in termini di tecnologia ecco e questo è un binomio che mi interessa molto approfondire con te perché IBM è una compagnia di tecnologia ovviamente e posso immaginare che anche nel comparto legale ci sia in qualche modo l'utilizzo della tecnologia vorrei capire come vedi il supporto della tecnologia e anche come immagini che possa influenzare la funzione legale direi che la tecnologia è un elemento che chiunque si trovi a dirigere un'organizzazione di giuristi sia in settore del libero foro che all'interno di un'organizzazione aziendale come faccio io si deve porre il problema della tecnologia come strumento uno strumento che può rendere più efficiente il modo di lavorare sfruttando e utilizzando i dati sfruttando e utilizzando i processi di automazioni creando tempo per poi poter esprimere quello che invece il valore del giurista c'è il pensiero l'attitudine a risolvere problemi anche complessi per diventare nel mio caso un trusted advisor per i miei clienti interni per l'IBM Italia appunto uno strumento insomma al centro restano le competenze resta il capitale umano restano le persone assolutamente grazie alessandra è stato molto bello averti qui ospite di in 300 secondi e continuiamo a lavorare per colmare il gender gap soprattutto nel materia stem grazie per farlo grazie grazie anche a voi che ci avete seguito ci vediamo alla prossima puntata di in 300 secondi